Hanno sostenuto la squadra sin dai primissimi giorni di ritiro, cantando sotto l'acqua nei freddi mesi invernali e il caldo di questi primi giorni estivi. La trasferta di Siena per loro non è con lontano ricordo. Un gruppo di 50 irriducibili tifosi piacentini è partito in pullman questo pomeriggio dal piazzale dello Stadio Garilli in direzione Trapani. Domani sera allo Stadio Comunale della città siciliana ci sarà dunque anche uno spicchio bianco-rosso pronto a sostenere il Piacenza Calcio nella sfida che vale un'intera stagione, una sfida che vale la Serie B. Ricominciano le trasferte quelle lunghe per un palcoscenico importante, i tifosi ci credono naturalmente, un gruppo di irriducibili starà vicino alla squadra anche a Trapani. Ovunque, è massacrante ma siamo presenti e fiduciosi. Fiduciosi quindi per il risultato? Siamo noi fiduciosi. Ci sono anche tre ragazze tra cui? Silvia. Come sarà questa trasferta? Sarà bellissimo, speriamo dai. Dura ma ci crediamo. Non ci saranno ad ogni modo solo questi ragazzi ad incitare i giocatori di Mister Franzini. Domani sera al Garilli verrà infatti allestito un maxi schermo per poter seguire la diretta. I cancelli saranno aperti alle 19.45 con ingresso gratuito lato tribuna. Inoltre, subito dopo la fine del match, Tele Libertà dedicherà una diretta al post-gara con le interviste ai protagonisti fornite dagli inviati presenti a Trapani.